Maschi ospite a Enada Primavera, la fiera organizzata dall'Associazione Nazionale Sabar. Laura, cosa ne pensi di questo evento? Innanzitutto vi ringrazio, è bellissimo essere qui oggi, una fiera meravigliosa. È come un tuffo nel passato e quindi è sempre piacevole, è pieno di ricordi allegri, positivi. Vedo tanta gente che si sta divertendo, i giochi sono bellissimi e mi sto divertendo pure io. Hai dei ricordi in particolare legati magari all'infanzia che riguardano calcio balilla, tappeti elastici, flipper? Assolutamente, come no, io sono campionessa mondiale di calcio balilla o calcetto come lo chiamiamo noi. Flipper anche mi piaceva molto, spendevo parecchi soldi. Tappeti elastici quando ero bambina, quando i genitori ti portano al mare e trovi queste cose. Poi quest'altro gioco che non so come si chiama, dove devi buttare questa sorta di palla dall'altro lato e colpire l'avversario. E poi tutti i giochi che trovi nei supermercati, quindi le classiche giostre, il cavalluccio piuttosto che altre cose. Bello, divertente, molto bello. Progetti per il futuro? Ma ce ne sono tanti, però per scaramanzia non posso dirli, però tanti, belli, sono entusiasta, sono felice e si vede, no? Però non posso dirvi niente, mi spiace.